Nostra gloria Buongiorno a tutti, cari amici, fratelli e sorelle di Teleradio San Pietro. Noi andiamo sostenendo in tutte queste relazioni come il nuovo falso, patologico, ipocrita regime abbia soppiantato il cosiddetto vecchio, autentico, vecchio, vero, sano, sincero regime. Che consisteva nella natura, che consisteva nell'ordine naturale delle cose. Loro insistono, era cattolico, sì, era cattolico però perfezionava l'ordine naturale delle cose. In questi giorni una notizia ha confermato ciò che andiamo sostenendo da ben diversi anni in questa emittente. Che il regno di Napoli, che i regni della penisola appeninica e le isole, quelli delle isole, sono stati distrutti anarchisticamente da persone private che non potevano farlo. In poche parole, tutto l'ordine delle nazioni mondiali è un ordine di nazioni all'interno delle quali sono state distrutte arbitrariamente, ne sono state distrutte alcune arbitrariamente. Non potevano essere distrutte. E queste nazioni sono le nazioni della penisola appeninica e delle isole. E appunto sono state distrutte anarchisticamente. Vi ho fatto sempre l'esempio della Germania nazista. È stata occupata per 40 anni dagli eserciti vincitori, ma non si è potuta distruggere Berlino perché non si può distruggere una capitale, una nazione. E conto il diritto delle genti. Invece il nuovo falso patologico regime ha distrutto la capitale Napoli, ha distrutto Palermo, ha distrutto Cagliari, ha distrutto Roma, Firenze e così via. Ma dove ha distrutto per colpire a far male è stato appunto nelle due Sicilie e in Sardegna per danneggiare irreparabilmente. Allora volevo farvi vedere una conferma matematica giunta in questi mesi. Tim Cook, il presidente dell'Apple. Quindi siamo nella finanza internazionale, in questa gestione internazionale dell'Apple. Lo vedete? Tutti i portatili che abbiamo più o meno sono di questa ditta. nato il primo novembre 1960, statunitense. Questo lo conoscete? Da quanto tempo non lo vedete? Matteo Renzi ha confermato, ha confermata la congiura massonica di cui andiamo parlando, che andiamo denunciando ormai da anni contro le due Sicilie, contro la Roma, trattino, Napoli, dei Cesari e dei Papi. Contro la Roma, trattino, ripeto, Napoli, dei Cesari e dei Papi. Guardate attentamente. Eppure per la prima volta in 156 anni di subcolonialismo straniero grampiemontese, Tim Cook decide di scendere sotto la linea cesarista renziana. Leggiamo. Quando a Milano annunciai, e mo' lo giro per leggerlo, Tim Cook ha rivelato questa sorprendente dichiarazione, che per me non è sorprendente, per noi che siamo addetti ai lavori, non è altro che la conferma della congiura contro la Roma, Napoli, dei Cesari e dei Papi. La congiura cesarista del nuovo patologico, bugiardo, ipocrita regime. Inaugurato il 14 luglio 1789, per essere più precisi, inaugurato il 13 luglio 1789. E voi sapete che il 13 luglio o 12 luglio, poi verrà il 12 luglio 1790, la costituzione, l'infame costituzione civile del clero, Giulio Cesare era nato o il 12 o il 13 luglio. La Francia, la Gallia, da chi fu occupata, da Giulio Cesare. Per Cingetorice, da chi fu sconfitto, Alessia, da Giulio Cesare. E quindi i conti tornano benissimo. Quando a Milano annunciai al capo del governo italiano, Matteo Renzi, spiego perché è bene spiegarlo, che avremmo voluto aprire una scuola per sviluppatori di Apple, lui mi chiese di immaginare una linea che divide l'Italia in due. Sopra quella linea, spiegò, ci sono dati demografici ed economici più alti dei paesi più ricchi d'Europa. Sotto quella linea, invece, siamo ai livelli della Grecia. E' l'attuale parole dell'attuale dirigente e amministratore delegato dell'azienda statunitense Apple dal 24 agosto del 2011. Matteo Renzi, nel suo colloquio privato con Cook, non fa altro che confermare la congiura massonica che va avanti da 156 anni contro le due Sicilie. Ecco la lettera del 22 agosto. Ne abbiamo parlato, ma è bene rispolverarla, perché così comprendete bene, che è il sistema, cioè in poche parole, se il confine romano arrivava sull'elba di Arminio, arrivava sull'istmo, sul vallo di Adriano, tra l'Inghilterra e la Scozia, oppure sull'elba di Arminio, il limes, il confine del nuovo falso patologico regime, arriva sul Tronto e sul Garigliano. Questo è importante comprendere. Una volta che comprendete questo, avete compreso tutto. Il cosiddetto Sud è il Gesud, è l'odio massonico alla Roma dei Cesari e dei Papi, alla Roma-Napoli, alle Roma-Napoli dei Cesari e dei Papi, a queste due città. Vedete cosa scrive Cavour a Costantino Nigra il 22 febbraio 1861. Presa appena, prese le due Sicilie, col tradimento interiore dell'alta ufficialità, tradimento intero dell'alta ufficialità e assalto, aggressione esterna anglo-piemontese. Adson era l'ambasciatore britannico a Torino. Adson venne ieri a portarmi una lettra di Lord Palmstone, che era il capo della massoneria e del governo, allo stesso tempo del governo britannico, in cui mi raccomanda caldamente di far istituire al Principe di Capo, a Carlo, fratello di Ferdinando II, sposato con Penepole e Schmidt, parente di Palmstone, mamma santissima Cavour, ovvero criminoso leader massomafioso internazionalista, i beni stati confiscati da un decreto di Garibaldi. Finché Garibaldi rubò ai Borbone, ai Cattolici, andò bene. Quando poi a Napoli rubò anche l'eredità di questo fratello di Francesco di Ferdinando II, che lo tradispo usando la nipote di Palmstone, non andò più bene. Garibaldi dovette restituire. Come dovette... E questa è la restituzione, fu messa anche dall'Austria per le arciduchesse d'Austria. Garibaldi aveva rubato tutto a queste... la dote di queste arciduchesse d'Austria e nei trattati della guerra di Lissa, nei trattati di pace, c'è la restituzione. Quindi, come vedete, Garibaldi, che a Napoli fece piazza pulita, rubò tutto, dovette restituire alle arciduchesse quello che aveva rubato, tra le tante. Le mando copia della lettera di Palmstone ad Addison e di due altre che erano unite ad essa, Cavour a Costantino Nigra, con cui il principe e la principessa di capo invocano l'appoggio del ministro inglese. Vedete, diventa privatismo. Il liberalismo, il privatismo, interessi privati e basta. Hanno distrutto, hanno ucciso la nazione delle due Sicilie ma ci tengono a far restituire al Garibaldi le doti che ha rubate a Penepole e Schmitt. La lettura di queste lettere basterà farle conoscere il vivo interesse che il ministro inglese prende a questo affare all'affare di difendere la sua nipote privata ma non e ci tiene poi al contrario come leggiamo ad annientare anarchisticamente le capitali delle capitali. Credo che la riparazione di questa ingiustizia commessa da Garibaldi è chiaro, gli ignostici gli ignostici quando fanno del male agli altri lo chiamano liberazione. quando lo patiscono loro dagli altri e anche giustamente lo chiamano lo definiscono vittimismo lo definiscono eroismo e così via. Credo che la riparazione di questa ingiustizia commessa da Garibaldi farà un'ottima impressione in tutta l'Europa vedete eh queste sono le lettere ufficiali diplomazia lettere ufficiali del governo inglese al governo piemontese farà un'ottima impressione in tutta l'Europa perciò la prego di voler dare sollecitamente gli ordini necessari gli ordini al Garibaldi di restituire. Sentite questo è importantissimo. Dopo aver parlato dei fatti privati come come svendono le popolazioni privatamente come le le dissanguano Adson raccomanda di neutralizzare in ogni modo l'influenza perniciosa di Napoli sulle altre province della Italia meridionale sottraendo queste il più presto possibile alla tirannide della capitale. Credo caro Nigra alla mia sincera creda caro Nigra alla mia sincera amicizia Cavour che scrive la ringrazio d'aver messo ordine alla maestranza maestranza massonica la consorteria massonica la lettera numero 1266 del carteggio Cavur Nigra dal 1858 al 1861 volume 4 la liberazione del mezzogiorno cioè la liberazione della borghesia spregiudicata dai re dai papi e dalle felici popolazioni del regno di Napoli Zanichelli Bologna 1961 e adesso andiamo a leggere anche l'altra lettera 107 questo è il mio libro l'assurdità della riunificazione nazionale italiana nell'artata inevitabilità della cosiddetta questione meridionale violazione irreparabile della differenziazione intra-pene insulare europlanetaria in appennina questo l'ho stampato nel 2012 sulla scienza istimica che dimostra l'assurdità della unificazione cosiddetta unificazione nazionale italiana e adesso e adesso vediamo Isacco Artom Isacco Artom segretario di Cavour a scrive il 6 dicembre scrive a Giuseppe Massari a questo grande traditore carbonaro delle due Sicilie se qui vi fosse nulla a fare se non si dovesse organizzare potentemente l'Italia superiore appunto perché la tragga rimorchio il resto della penisola io sarei il primo ad esortare il conte di Cavour a prendersi egli stesso l'ercurea impresa tentata dal Farini nota 17 volume 4 della liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno d'Italia Zanichelli Bologna 1961 pagina 23 queste due lettere me le inviò me ne parlò e poi me ne inviò io insistetti di averle il grande ricercatore Umberto Pontone Rin il grande ricercatore filo due Sicilie ebbene vedete facciamo l'analisi proprio l'analisi di questa diciamo l'esegesi di questo passo di questa lettera se non si dovesse organizzare potentemente l'Italia superiore organizzarla potentemente in che modo esortare il conte apprende se egli stesso l'erculea impresa e l'erculea impresa significa per distruggere le due Sicilie viene invocato Ercole significa che le due Sicilie erano forti erano uno stato florido quindi era un'erculea impresa rovinarle infatti la prima lettera quella che abbiamo letto per prima è del 22 febbraio 1861 questa è del 6 dicembre 1860 quindi si vede quindi si vede come Palmstone mediante Hudson ordinava al colonizzato Cavour perché anche il Piemonte diventa una colonia per ingordigia diventerà una colonia britannica a Cavour e noi subcolonia della colonia di Londra noi due Sicilie per questo qui siamo il 6 giorno di San Nicola di Bari 6 dicembre 1860 lì siamo nella cattedra di San Pietro 22 febbraio 1861 vedete da questa lettera da questa lettera poi passiamo all'altra sono interconnesse gli ordini di Palmstone mediante l'ambasciatore Hudson a Torino e Cavour che ordina o il suo segretario Isacco Artom ordinano come distruggere le due Sicilie anarchisticamente ma perché quest'odio alle due Sicilie vi volevo far vedere una cosa molto interessante vedete qui questa è l'età del bronzo l'età del bronzo approssimativamente il secondo millennio avanti Cristo vedete c'è la civiltà vedete l'Italia settentrionale non c'entra nulla con la civiltà pennilica peninsolare vedete non c'entra nulla siamo nella civiltà del bronzo protostorica preistorica vedete mentre nell'Emilia Romagna vi erano le case mare cioè i villaggi della terra grassa così definiti delle palafitte nella civiltà italica invece vi era già la ceramica e l'Emilia riguardava la via che veniva dal dal Baltico la via della resina non c'entrava nulla con il resto della penisola quando poi questa civiltà delle case mare delle palafitte andò in disuso molti Celti molti abitanti del nord passarono in Italia dovettero cambiare passarono nella penisola italica ma non c'entra nulla la gallia cisalpina la prima definizione che ne daranno i romani la gallia cisalpina con la penisola italica infatti se c'è una gallia cisalpina significa che vi è una gallia transalpina la gallia l'attuale Francia vedete la differenziazione intra-peninsulare vedete la civiltà del bronzo oggi la Danimarca la cultura scandinava diciamo pur non essendo scandinavia ma fin dalla civiltà del bronzo dal secondo millennio avanti Cristo la Danimarca aveva la stessa cultura della scandinavia vedete la regione dell'antica Svezia e anche Norvegia le coste della Norvegia vedete la natura delle cose l'età del bronzo rigetta l'unità d'Italia vedete anche qui siamo sempre nell'età del bronzo vedete la penisola atlantico-mediterranea o interpirenaica i celti non a caso iniziavano lì dove vedete il reno e terminavano nel nord della Spagna dell'attuale Spagna e Portogallo la penisola iberica vengono definiti celtiberi ma il nome celtibero incanna non sono celti e iberi mischiati fusi no nel modo più assoluto inganna questa definizione questo termine sono invece celti puri dal come dicevo dal reno fino fino al al nord della penisola iberica invece gli iberi erano al sud della penisola iberica ed erano al sud delle Gallie al sud della Francia il contrario vedete il sud della Francia era abitato dagli iberi quindi il sud dell'età del bronzo e poi dopo perché questi vennero dopo sono popoli indoeuropei vennero dopo l'età del bronzo questi popoli nel primo millennio avanti Cristo occupavano il nord della penisola interpirenaica che va dal reno all'atlantico a Lisbona per intenderci era abitato dai celti invece il sud dagli iberi ma quello che è importante e lo ribadiamo quello che ribadiamo è che fin dall'età del bronzo abbiamo visto come la cultura scandinava la vedete sopra in verde la cultura scandinava è la stessa fin dalla civiltà prego la regia di inquadrare la scandinavia la cultura scandinava è la stessa fin dall'età del bronzo la Danimarca non ha nulla a che vedere con la Germania e la Polonia per intenderci ma ha tutto a che dividere con ha tutto in comune con la Svezia e la Norvegia e così vedete la penisola italica la penisola italica non ha nulla a che vedere dall'istmo con la pianura padana con l'arco alpino con le alpi nulla a che vedere né con la gallia cis padana né con la trans padana ma perché tanto odio a Napoli perché questo odio a Napoli confermato per l'ennesima volta a Tim Cook da Matteo Renzi ma Tim Cook ha detto io andrò contro il governo italiano una persona un capo di governo che non è stato neanche eletto dal popolo questi sono i giacobini tradiscono sempre le proprie costituzioni questa persona non è stata eletta dal popolo italiano e cosa avviene avviene che Tim Cook ha detto no io vado ad aprire a Napoli vado a aprire andrò contro il governo italiano e andrò ad aprire dove c'è il genio informatico italiano Napoli ripetiamo perché quest'odio a Napoli vi ricordate Cornelia la madre dei gracchi Cornelia la madre dei gracchi quando andò quella signora e disse fece vedere i suoi gioelli e lei prese i figli e disse questi sono i miei gioelli ciò che le maestre di un tempo ci insegnavano a scuola i valori umani i valori naturali per esempio vi ricordo nel mio paese quella che era più potente in queste narrazioni che batteva tutte le maestre era la signorina la signora Carmela Lerza era una delle più potenti non solo del paese ma di tutta la provincia la diocesi di Sernia quando insegnava queste cose le ripeteva a noi fanciulli vicini di casa era le stesse a credervi Cornelia la madre dei gracchi qui viene raffigurata anche in senso cristiano viene di coletta sopra era la figlia di Scipione l'africano era la figlia di Scipione l'africano e Cornelia madre dei gracchi morirà a Miseno a Napoli quando verrà dichiarato l'impero romano con Augusto il 16 gennaio del 27 avanti Cristo Miseno Capo Miseno è la più grande flotta romana del Mediterraneo perché la flotta romana era estanziata a Miseno Capo Miseno e a classe a Ravenna ma quella di Ravenna riguardava doveva coprire solo l'Adriatico invece la costa Cornelia madre dei gracchi la costa di Miseno la flotta di Miseno doveva coprire tutto il Mediterraneo quindi pensate Miseno Capo Miseno l'attuale Pozzuoli era la era il porto di il porto di Roma cosa voglio dire con questo voglio dire che tutti i grandi romani i grandi dell'impero a partire dal padre dell'impero Augusto sono morti a Napoli sono vissuti e morti a Napoli il presidente della Campania ci è restato male come è possibile che un Piero Angela che un Piero Angela che parla del bimilenario di Augusto della morte di Augusto 14 19 agosto del 14 la sua morte a Nola o Ottaviano parlando nel documentario su Ottaviano e Augusto non cita che è morto che è vissuto e morto a Napoli a Nola o Ottaviano ho trovato su internet purtroppo Piero e Alberto Angela sono massoni per cui quando snocciolano satanate massoniche su Gesù Cristo non date loro retta preghiamo per le loro anime sviate è verissimo Piero e Alberto Alberto e Piero Angela tutti e due padre e figlio sono massoni sono figli a questo trentatreesimo pezzo grosso il massimo della massoneria Carlo Angela padre di Piero Angela era un capo massone consacrato a Satana l'ho trovato su internet morì nel 1949 è il padre di Piero Angela massone della loggia di Torino quindi giustamente siamo messi in guardia ma ripeto vedete come si trovano le cose questa locandina questa immagine raccomanda di non credere alle bugie degli Angela su Gesù Cristo ma non dobbiamo credere neanche alle bugie sull'impero romano sui Cesari perché i Cesari come dice Blaise Pascal preparano a Cristo per lui penso Aristotile per lui marciarono le legioni di Cesare e non a caso la terra delle legioni di Cesare e la Grecia sono messe da Matteo Renzi allo stesso stato subcoloniale la terra di Aristotile e la terra dei Cesari perché sono le due colonne che prepareranno che spianeranno la via al nostro Signore Gesù Cristo se Dio vuole alla prossima volta e la via di Cesare Grazie a tutti.